Oggi andiamo a vedere subito la Kozma Minin, ovvero l'incrociatore sovietico premium di livello 9 che si può ottenere nel nuovo evento Ottobre Rosso. Nell'armeria possiamo notare come c'è anche la caccia alle taglie con una classifica che darà delle ricompense. Fondamentalmente bisognerà distruggere le taglie presenti in partita e cercare di non farsi distruggere a propria volta. Si può ottenere comunque sia lo status d'Italia acquistandolo per la cifra che vedete, 100.000 oppure gratuito, mi sa, è il primo acquisto. Inoltre ci sono anche diversi pacchetti che si possono acquistare con i nuovi gettoni rosso. Per quanto riguarda la nave in sé, siamo come detto un incrociatore di livello 9, resistenza 47.450 artiglierie. Cannoni da 203 ha rapido utilizzo, 8.4 secondi la ricarica, perforazione 51%, probabilità di incendio pari al 14%, numeri incredibili. Abbiamo poi essenzialmente dei siluri per uno scontro ravvicinato a 6 km, incursione aerea per i sommergibili, nemici fino a 7 km, difesa contraria. Non brilliamo, abbiamo un 5.8 per la portata massima e poi 6 esplosioni in una salva. Non sono poche, però ripeto, il 5.8 potrebbe limitarci leggermente. Manoprabilità estremamente rapido, come incrociatore, sovralimentazione standard a 8%, mimetizzazione 12.6. Abbiamo la squadra di riparazione, il radar fino a 12 km con durata 30 secondi e ancora ricerca edrofonica 3.5-5 che si potrà cambiare con lo sbarramento contrario. Mettere tutto quello che il gioco vi suggerisce, tranne nella seconda slot, io ho messo sorveglianza radar modificata 1 per avere più il 20% di durata del radar. Per quanto riguarda invece le bandierine, ho preferito queste qui, anche se si potrebbe elevare questa qui, la November, per mettere qualcosina riguardo appunto la probabilità di incendio. Capitano speciale, obbligatorio, dovete averlo perché altrimenti la nave non renderà a dovere. Andiamo a mettere quindi ingrassatore di equipaggiamenti. Qui sinceramente alimentatore di cannoni l'ho messo, però anche specialista di consumabili ci può stare tranquillamente. Esperto di demolizioni e ancora sovrintendente, esperto di sopravvivenza, scarica di adrenalina e in ultima analisi esperto di occultamento e ancora artigliere di primo grado. Si potrebbe cambiare qualcosina magari rispetto appunto alimentatore di cannoni con specialista di consumabili. Non è che cambia tantissimo, a questo punto preferisco ridurre la ricarica dei cannoni del 40% che non fa mai male. Il cambio di proiettile per essere preciso. Con un rapido giro a 360 gradi possiamo notare la mimetica permanente che sinceramente non mi piace nella maniera più assoluta. Abbiamo due cannoni a prua e due cannoni a poppa, mentre i siluri sono posti nella parte centrale della nave. Per quanto riguarda invece i bonus economici, tutti quelli blue per cercare di massimizzare gli introiti da tutti i punti di vista. Crediti, esperienza libera ed esperienza capitano che è sempre molto utile. Ragazzi, come sempre vi chiedo un semplicissimo mi piace per supportare la community di World of Warships, il canale del Buon Devi e tutto l'intrattenimento che quotidianamente i miei video portano a un pubblico che sempre di più cresce. Quindi veramente, a uno mi piace poter fare tantissime cose. Andiamo a vedere una partita. Siamo pronti a giocare una partita con il nostro incrociatore sovietico. Siamo in una mappa frammenti in modalità supremazia. Una portaerei, 5 corrazzate, 3 incrociatori e 3 cacciator penieri. Situazione molto interessante. Andiamo a destra. Andiamo su porto alla Kazuki, Z46, Weimar, Bismarck e tutti gli altri. La Shitaka, che hanno loro come portaerei? La caga! Noi abbiamo la Shokako, va benissimo. Ci sarà da divertirsi, si spera. Abbiamo un po' di strada da fare, però non è un problema, perché la nostra sovralimentazione ci dà quel boost leggero che ci serve. Ovviamente qui dobbiamo dare una mano alla Kazuki, che deve vedersela contro Yugumo, Kajero e Minsk. Vediamo un pochino che cosa avrà davanti a lui. E poi tutti i vari giocatori. La Shokako un attimino perde un po' di tempo nello spot. Ok, Tirpitz. Purtroppo la portaerei, come tutte le navi, alla fine, deve velocizzare il più possibile la manovra. Soprattutto quella iniziale, in modo tale da vedere i nemici dove vanno e tu ti puoi anche regolare di conseguenza. La nostra nave tocca praticamente 40 nodi con il boost. La Kaga ha aerei di livello 6, anche se è una portaerei di livello 8, il che li rende particolarmente fragili. Però, ripeto, sono tanti. Là c'è lo Schroeder. Un po' pesantuccio. Ui! Non lo vedo più. Facciamo una cosa così. Ecco a destra. Io sono la taglia, ma non è che mi faccio prendere in maniera piuttosto banale. Una ricerca idrofonica me la voglio attivare per una mia sicurezza personale. Tre incendi è illegale. Me ne rendo conto. Vabbè, ha spento tutto. Fermo, 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 fermo. Mi ha risparato la Carl João. E sti cavoli, no? Ti preoccupa più la Carolina. Sono un po' troppo aperto comunque. Vorrei fare una pirata più. A Kazuki, grazie. Potevi mettere un fumo più, come dire, corposo per noi. A Shitaka, chiedo scusa, ma in questa fase di manovra... Ma spara a me? Ah, non vedo più perché... Diciamo che il fumo del... Della, come si chiama, di la Kazuki poteva essere messo in maniera un pochino più, no? È inutile sparare al cacciato peniere, difficilmente lo andrei a prendere. Un colpo complicato. Fermo. Se solo avessi una copertura più... Copertura. Quanto può essere fastidiosa questa nave da 1 a 10? 11. Ma miseria. Eh, sto... Sto tankando... Vedete il danno potenziale come aumenta? Lì sto facendo avanti e indietro e lui non riesce a leggere... Non spara più a me. I danni aumentano in una maniera... Wow. Guardate l'angolo di tiro dei miei cannoni. Pazzesca sta roba qua. Diciamo che con le HE non hai molte speranze. Ho un po' di paura dei colpi che possono arrivare da parte del caggero e dei siluro, ovviamente. Continuiamo. Ma sono... Allora... Qual è il problema? Se lui si fosse messo... Fosse andato... Su alfa... Su alfa... La car joan... Per la nave europea... Che ha fondamentalmente... Delle secondarie e dei siluri... A tredici e mezzo... Avrebbe evitato... Sta cosa qua... Dove io... Lo posso colpire a ripetizione... Perché è in mare aperto... È normale che... Per me diventa una giocata... Anche fin troppo facile... Io voglio la ricerca telefonica appena possibile... Perché... Siluri arriveranno... Sto un po' ignorando i cacciatori per ieri... Perché non li sto reputando una grande minaccia... Poi la Kazuki un attimino... Dovrebbe esatto... Mettere il fumo... Tanto ce l'hai... E... E sti cavoli... Ora qua l'incendio purtroppo non scatta... Perché il gioco non vuole che... Non mi vuole dare incendio... Vai... Infine il radar... Scusa ci ho messo un po' a darti il radar... Però... Non avevo ben capito la... La situa... Abbiamo fatto 73 mila danni... Sono un po' pochini... Nulla di entusiasmante... Qualche incendio in più sarebbe stato gradito... La Kaga qua... Vediamo se ci regala qualche aereo... Per aumentare il nostro punteggio... L'ipiranga che esce da là è pericolosa... Molto pericolosa... Caroline è anche in una posizione... Facciamo molta attenzione... Perché... Qua non c'è nessuno... Abbiamo 0k in tutto questo... Non ti posso aiutare Akazuki... Semplicemente non posso... Devo andare secco a destra... E' vicinissimo lui... Ma mi fa male... Ma mi fanno molto male tutti... Molto gentili... Ecco... Siamo stati... Tutto perfetto... Facciamo una manovra... Figurati se le Z-46 mi dai fumo... Aspetta... Aspetta la Carolina... Ah attenzione... Attenzione me l'ha dato... Grazie... Sì però me lo devi dare un attimino... Dove sto io fra... Ti ringrazio per... Già che mi ha dato il fumo... Sinceramente non me lo aspettavo... Perché nel 90% dei casi... I giocatori non lo danno... Ora... Non è una cosa che io... Chiedo spesso e volentieri... Anzi... Non lo chiedo quasi mai il fumo... Mi sono esposto... Giusto un secondo... Mi hanno massacrato... Andiamo un attimo a capire... Come... Come agire ora... Perché di colpi ne abbiamo presi tanti... E la portiera nemica viene... La nostra portiera viene anche attaccata... Wow... Ma è possibile questa cosa? Non sto capendo perché abbiamo... Zero K... Andiamo se è qua a sinistra... Eh non so se riesco a fare la... No no no... Aspetta... Aspetta... Devo recuperare un po'... Wow... Mado giù? La Bismarck potrebbe fare ricerca edrofonica... Per spottare la... Lipiranga? Idro? Vediamo se la usa... A quanto pare... Grazie... Grazie... Ok... Era attiva... Destra... 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 E sta venendo proprio da questa parte lui... Eeeh... That's a problem... That's a big problem guys... Mi devo allontanare dalle secondarie... Siamo stati fortunati su questa cosa perché poteva one shotarmi... Un po' di fortuna... Un po' di fortuna... Ogni tanto... Oh si è incagliato... E' il momento dell'AP... Destra 46... Non esagerare... Fai fare a noi... Non c'è bisogno di... Di rischiare la tua nave... Inutilmente... Su una nave che sta morendo di me... Destra 46 è rischiato... Come io ho rischiato... Perché... Ho rischiato... Lo ammetto... Diciamo... Ognuno rischia a modo suo... Dobbiamo tornare contro... Questa Carolina full... Non lo so ragazzi... Qua la situa... La vedo un po'... Un po' tragica... No... Non siamo messi malissimo... Però... Neanche... Da... Sorridere... Io recupererei un po' di vita... E andrei... Secco... Allora... Vediamo così... La Lyon... L'inglese... La... Francese... Scusate... Penetrazione assicurata... Nave leggera per me... Kill... GG... Wow... Un po' troppo... Ui... 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 E non scatta l'incendio signori Non lo so Quel cacciatore peniere sta facendo davvero i devasti Incendio E questo se lo tiene a meno che non viene distrutta dalla Tirpitz Perché poi è troppo bello Allora Ci muoviamo da questa parte Ci andiamo a prendere il cap Se la portiera Troppasse un po' di fighter Sulla testa del coso sarebbe perfetto Si è andato a bloccare vero? Nice Sono un po' dispiaciuto Perché ho fatto solo 124 Non è proprio Non è tanto Anzi Partita non è finita Attenzione però La portiera nemica Poi a un certo punto non ho capito perché si è messa in quella zona Potremmo arrivare molti più incendi sinceramente Mi guarda? No Qui diventiamo devastanti Lui non mi guarda neanche Mi favorisce la giocata Questa è una partita da 150 Senza problemi Se avessi farmato leggermente di più Potremmo fare anche Qualche kill in più Però sti gran cavoli Avete visto proprio la giocata iniziale Era proprio quella che volevo mostrarvi Quindi Sono soddisfatto Opla E ovviamente no E vabbè dai Peccato Spiace 142 Ma ripeto Una sola kill Posso fare di più Ci poteva fare di più In questa partita Nave molto Molto leggera Cioè è stato un momento in cui Abbiamo preso delle sberle Che potevamo Non dico evitare Forse lì Anziché fare una virata così secca Ed uscire da E7 E8 Potevo andare in retro Bah non lo so Un po' di fortuna sull'ipiranga Che non mi one shotta nel lato Vabbè Va bene va bene Siamo felici Di com'è andata Mi verrebbe da dire Le ho fatte solo una Miseria Quante kill Si potevano fare Delusione totale Ahimè Dici che sta già là? No Eccolo Non l'ho spottato io ovviamente Con radar Ma è stato spottato di suo Dalla Tirpiz nostra E andiamo E si comincia di nuovo Con le HE Che penetrano In una maniera Scandalosamente Efficace Incendio in più sarebbe gradito Ecco appunto 16 incendi No comment Abbiamo fatturato poco però L'altro incendio Incredibile 17 incendi Che cos'è sta No 17 incendi E aspetta Abbiamo Ripeto Questa è una partita che Per come stava andando Potevamo fatturare Fumo Con le HE abbiamo fatto 108 Poi qualche colpo in AP Giusto per dire Che le abbiamo Sparate Ma la cosa devastante 17 incendi Che potevano Ripeto Fatturare molto di più Crediti Levate le varie spese 1 milione E 400 mila Puliti puliti Buttali via Ora questa nave Semplicemente In maniera molto chiara E breve Non deve farsi colpire Perché Non ha la possibilità Di resistere Ai colpi avversari Questa è la corazzatura Che mette A disposizione Anche le armi Secondarie Soprattutto quelle tedesche Ma anche quelle Panamericane Vi possono perforare In maniera piuttosto semplice Quindi causare Dei danni ingenti Al vostro incrociatore Per quanto riguarda Invece I gettoni Ottenuti Con l'onore efficienza Falso bersaglio Saranno 5 Per fare un esempio Io il consiglio Che posso darvi È di Accumulare Tutti i gettoni Che riuscite a mettere insieme E poi decidere Alla fine Che cosa andare A comprare Vi ricordo che I container Normali Avranno una possibilità Inferiore Di trovare Ovviamente Gli articoli Premium Mentre I container Premium Avranno Una probabilità Superiore Per le navi Parliamo Del 6% Questa nave In particolar modo È cattiva È molto cattiva Perché poi Messa in un livello 9 Dove vai Puoi andare addirittura Contro i 7 E lì fai veramente Devasti Contro gli 8 Spesso e volentieri E contro i 10 Se la puoi giocare Secondo me Abbastanza Tranquillamente Quindi una nave Che se fate quel gioco Lì Come vi ho mostrato D'accordo L'angolo di tiro Dei cannoni Vi consente Di ripetere Ripetutamente I colpi Sui nemici Ecco perché Vi consiglio Se avete navi Se avete navi A secondaria Ma in generale Con tutte le navi Di non mettervi mai In mezzo a mare Perché poi vi serve Una copertura E non ce l'avete La nave È interessante Non ho potuto utilizzare Siluri Semplicemente Perché non c'è stato Nessuno scontro Ravvicinato Nave Abbastanza Interessante Ragazzi Vi l'ho terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i commenti Le visualizzazioni No come sempre Ci vediamo Con il prossimo Come play Ciao